Finalmente sono in inn dopo tutta questa giornata Dopo tutta questa fatica Però mi sono venuto una cifra Un momento più bello qual'è stato secondo me? Quello... Nome... Scusi stiamo facendoci due cazzi nostri l'uomo Con mia moglie Un momento bello qual'è stato secondo me? Tutta la sua... Ma la mantellina aveva detto sì Siamo stati tanto così senza avvistare il mantellino Il bordone, ma il bordone è sparito quindi... Ci ha fatto un pacco... Facciamo anche noi... Sopravviveremo Vai Nome? Rossella Riccardo Blog www.linna.info www.linna.info www.linoni.com È vero, è vero Perché sei qui? Non lo so, me lo sto chiedendo ma alla fine mi sto chiedendo Per stare in compagnia, birra, salsicce, amici e link Dimmi tre pregi di te Non ne ho Io stavo pensando i miei Sì che sono un positivo, un ottimista, che viva l'amore cosmo Tre difetti Sono pigra Sono pigra Sono pigra Sono pigra Il mio più grande è di essere una persona estremamente irresistibile E a volte mi sto lontano da solo da quanto mi piace Non ti resisti Non mi resisto Ti prendo pugni per rendermi più insopportabile ma non ce la faccio L'ultima volta che hai dato un bacio? Pochi minuti fa Bacio con la lingua, scusi intervistatore, con la lingua, bacio francese o? Assolutamente sì La canone che ho tua moglie, adesso baccerò un carriere Prima di un'intervista Chi vorresti baciare ora? Mio marito dall'altra parte della telecamera dopo che l'avrò pigliato Anche io il tuo marito vorrei baciare Mi piace Quando hai un bacio a Mario? Anche tu eh? Mario, bello che sei peloso come... Eh vabbè gli squilla più dal cellulare durante l'intervista Allora La cosa più strana che hai fatto a letto? Eh non lo posso dire che mio marito si è rabbia perché non l'ho fatta con lui La più strana fatta a letto è provare a finire il cubo di Rubik Se ho messo una settimana Dimmi di che cosa hai voglia ora? Siamo in fascia protetta Sì adesso di alzarmi perché c'è il cubo quadrato Tre animali che iniziano con la lettera R Rosco, rana, rinoceronte Rossella, rasulo e il cazzo non piene Riccardo La persona che corteggeresti ora? Riccardo, è irresistibile di natura Lo sappiamo ma anche tu santo... Complimenti per la pazienza Ora puoi anche saltarci come ti pare